Il governatore di Puglia, Michele Emiliano, ha firmato il decreto che porterà al voto il prossimo 20 e 21 settembre 4 milioni di pugliesi che saranno chiamati a scegliere quali saranno i prossimi amministratori. Gli schieramenti politici sono al lavoro per trovare la giusta conformazione delle liste per poter sedere sulla poltrona più alta della regione. Nel centrodestra a Salentino i giochi sembrano fatti, i fratelli d'Italia si punta agli uscenti Saverio Congedo e Luigi Manca, ma c'è anche tra i pretendenti al Consiglio regionale l'autorevole candidatura dell'ex presidente della provincia di Lecce Antonio Maria Gabellone. In Forza Italia invece c'è la candidatura di Aldo Aloisi uscente mentre c'è un clamoroso passaggio di casacca, quello di Antonio Buccoliero che nell'ultima tornata elettorale si era addirittura candidato nelle liste del Partito Democratico raccogliendo oltre 7 mila preferenze. Come cambia il mondo in soli cinque anni? Nella Lega invece è già in campo il vice sindaco di Alezio Roy De Santis, i giochi a questo punto sembrano fatti, i posti in pole position sono assegnati e la battaglia è già partita sui social con le campagne pubblicitarie sponsorizzate e in città con gli immancabili 6x3.